Afghanistan, le salme rientrate in Italia. Silenzio, lacrime e rabbia. Dice, sono eroi. Eh, ma i quelli eroi. Non sono eroi, sono para. Sono para culi, conatini. Ma i più fetenti agiscono in Italia, travestiti da agenti di polizia giudiziaria. Assaltano, depredano, devastano, ammazzano gli uomini, sequestrano e schiavizzano donne e bambini. Sacra notazione pacquolia. Parla da sola, ed è la causa di tutti i mali d'Italia e del mondo. Isabelita Russo da Milano for Queen, i truci in galero in manicomio. È un malum inviato a Il Giornale MKK. Berlusconi e la sua merdosa famiglia. Ancora non sono stati ingabbiati. Isabelita Russo da Milano for Queen, i truci in galero in manicomio. A seguire i nomi di criminali seriali sicuri. Sacra notazione pacquolia. Parla da sola. Ed è la causa di tutti i mali d'Italia e del mondo. Finché il sacro atto sarà vivo, morta l'Italia, agonizzante il mondo. Io a Pacquola Roberto e il De Angelis Giuliano della sacra notazione pacquolia. Paraculi in Italia. In galero in manicomio. E in galera o in manicomio chi li difende, chi li protegge, chi non li ingabbia. Ehi, il conatino Narcisa Zarasti ha rimosso i suoi video osceni. Ormai dei video non ce ne frega più niente. Il conatino Narcisa Zarasti, colleghe e colleghi, ingalero in manicomio. E' pagata. La Narcisa Zarasti vera, la portinaia coi coglioni. E il trepavoli Alessandro, amministratore condominiale senza coglioni, ingalero in manicomio. Grazie. Grazie. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!